Tre minuti dedicati all'Accademia Urbense, ragazzi io qua ho il massimo, il top dell'Accademia, quelli che si occupano tutti gli anni di preparare il calendario, è già un po' di anni che veniamo. Sì, ormai è il quinto anno, però un anno con la pandemia non l'avevamo fatto, ma comunque sono quattro calendari. Quindi io leggiamo in innovandese, com'è? Ta quei duò. Ci vuole pazienza, voglia a dedicarsi a questo. Quest'anno abbiamo scelto questo tipo di calendario, lo scorso era molto interessante per le orchestre, quest'anno è altrettanto interessante perché abbiamo toccato degli aspetti più legati ai mesi. E alcuni mesi sono dedicati a attività commerciali storiche. Ci sono quattro negozi, due in via Caironi e due in via San Paolo storici, che sono ricordati. Speriamo che la gente lo apprezzi perché l'Accademia vive grazie ai soci e deve tirare avanti come può, perché certo i costi sono aumentati anche per noi, quindi se la gente si sostiene e si associa per noi, acquista il calendario e per noi ci dà la possibilità di lavorare un anno. E questo va da queste ricerche, come le fate dottore? Mi baso sulle informazioni che ho raccolto nel corso degli anni, parlando con chi sapeva e interrogando chi pensavo potesse sapere. Questi ragazzi riusciremo a non fare perdere le radici, li riusciremo a tenere sempre in contatto con le nostre tradizioni. I giovani continueranno il lavoro che state facendo voi? Direi che dipende dal coinvolgimento che noi riusciamo a generare. I giovani guardano più al futuro, quindi hanno la loro vita che è il domani. Grazie a tutti quanti voi, io vi faccio un grande augurio di buone feste e vi do appuntamento al prossimo calendario di un altro anno sicuro. E con voi ci vediamo nei prossimi tre minuti. Grazie.